Il trasporto su ruote di modiche quantità di droga è spesso privilegiato per consegnare agli spacciatori il loro rifornimento. In quest'ottica le forze dell'ordine continuano i loro controlli su strade e autostrade in modo da intercettare la merce prima che arrivi nelle piazze di spaccio. I militari della Guardia di Finanza di Cosenza hanno intercettato una di queste auto nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza Sud. Le fiamme gialle nel normale protocollo di identificazione del mezzo e del conducente hanno notato il suo atteggiamento evasivo e sospetto, così hanno provveduto ad un'accurata perquisizione dell'auto, trovando nascosto un sacchetto che conteneva mezzo chilo di cocaina, che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato almeno 120.000 euro. I finanzieri quindi hanno provveduto a sequestrare la droga e l'automezzo, mentre il responsabile è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Cosenza.